Network marketing, gli elementi del programma di formazione. La speranza non basta, per i giovani non c'è futuro, oppure noi abbiamo avuto più fortuna di voi anche se non abbiamo studiato. L'80% delle persone che si approcciano al marketing di rete hanno la speranza che arrivi prima o poi con l'aiuto di un'entità superiore, l'opportunità giusta, nel paese e momento giusto e trovare il segreto per farla funzionare. Auguri! Grazie a tutti!